La Rete e la Ruspa è il nuovo libro sui populismi di Nicola Porro, autore di tante altre pubblicazioni. Questo in particolare di cosa tratta? È un tentativo di interrogarsi sul fenomeno dei populismi, che non è un fenomeno legato esclusivamente al nostro paese o soltanto all'attualità politica. È un fenomeno che sta investendo il mondo, segnala la crisi di un vecchio modello politico, l'affermazione di una concezione diversa di democrazia, che ha fatto parlare qualche studioso addirittura di un fenomeno di controdemocrazia. Però già in queste parole ci può essere un'espressione valutativa, che io cerco di non assecondare, e cerco di fare quello che è il mio mestiere e cerco, per quello che è possibile ricostruire dal punto di vista di un'analisi condotta diciamo in tempo reale, di interpretare le direttrici principali di questo fenomeno, non isolando esclusivamente il caso italiano, ma tenendo presente il caso italiano effettivamente un po' particolare. Noi siamo il primo dei grandi paesi europei governato da una coalizione, non coalizione di partiti, di due partiti di ispirazione populista che hanno una memoria storica, una sensibilità culturale molto diversa fra di loro, ma che si propongono come una risposta alla crisi di quello che genericamente chiamiamo il sistema. Io credo che queste strategie, senza invadere il campo delle opzioni politiche dirette, meritino comunque una riflessione. È quello che ho cercato di condurlo, è con un'analisi dei percorsi storici, ma anche di un momento specifico, che è quello che chiamiamo lo stato nascente del governo populista. Però dobbiamo cercare una risposta che parta dal nostro specifico, a quello che l'analisi è concentrata principalmente, se non esclusivamente, sul caso italiano.